La Borsellino va fatta fuori come il padre. Chi parla non è un mafioso, è un medico, un chirurgo, Matteo Tutino. La Borsellino a cui si riferisce è Lucia Borsellino, figlia del magistrato ucciso da Cosa Nostra. La conversazione è una conversazione che ha questo medico Matteo Tutino con Rosario Crocetta, presidente della regione Sicilia. Questo è il caso di questi giorni mediatico, un'intercettazione nell'ambito di indagini a cui è sottoposto Matteo Tutino, che peraltro è accusato, è stato arrestato con accusa di falso, abuso all'ufficio, truffa, peculato per quanto riguarda i suoi incarichi pubblici, un intreccio con affari privati, nell'ambito ovviamente della sanità siciliana e la polemica ovviamente è scaturita per il fatto che Crocetta ha queste parole, senz'altro inquietanti, pesanti nei confronti di Lucia Borsellino. Rosario Crocetta ha opposto semplicemente un silenzio. Quindi lo scenario è appunto la regione siciliana, quindi inevitabilmente tutto quanto l'ambiente dell'antimafia siciliana, che spesso la politica si contende. Nel frattempo già si era dimessa tutta la carica di assessore Lucia Borsellino, evidentemente qualcosa non le era piaciuto dell'ambiente della giunta ed è tematica trattata in questi nostri incontri con Mauro Mellini qui nel suo studio ed è tematica su cui sicuramente lo ascolteremo, è tematica di cui lui ha parlato spesso nel suo blog Giustizia Giusta e anche in alcuni suoi libri. Vediamo un pochino appunto cosa ci dice Mauro Mellini di tutta questa vicenda che opinione si è fatto. È scoppiata il bubone dell'antimafia, così dovremmo commentare quello che stava succedendo e che è successo a Palermo. Il fatto in sé io ritengo che sia sostanzialmente banale rispetto all'enormità dei problemi che ruotano intorno alla presidenza della regione di Crocetta che si è rivelato il peggiore, il più pericoloso dei presidenti di questa regione e contornato da questo alone della cosiddetta antimafia devozionale come la dice il nostro amico Guido e che ha finito con la pubblicazione di un colloquio tra Crocetta e un suo strano medico plastico specialista, ma di cui si parlava male in giro per la Sicilia perché pare che andasse tenendo un atteggiamento dell'amico dei potenti e facendo sentire il peso del suo potere che gli derivava da questa sua amicizia con il presidente della regione. Questo personaggio parlando della Borsellino, figlia di Borsellino che fu assassinato dalla mafia, ha detto, io non dico avrebbe detto perché oggi si cerca di recuperare il dubbio, ma secondo me è la pezza che si vuole applicare, la pezza colorata. Ha detto, questa è andata oltre i limiti, io non credo che Borsellino avesse le qualità per fare l'assessore regionale e comunque per tenere un ruolo politico che deve essere attribuito. Non è stato attribuito perché era la figlia di Borsellino, però deve essere una brava persona e certamente questo si è scontrata con situazioni tali, in particolare con una strana attività di questo medico il quale faceva certe particolarissime operazioni plastiche che poi gabbellava per operazioni con finalità funzionali, così da poter rientrare nei rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, cose certamente non convendevoli, non tali da essere comportamenti degni di cui veniva prescelto come amico intimo del presidenza di una regione. Ha detto, questa è andata oltre il segno, questa bisogna fargli fare la fine del padre, cosa che è atroce come espressione, e lo scandalo che sorge per Corso di Stato è che Corso di Stato non ha reagito. Quindi, teniamoci bene, se io avessi inteso un mio amico dire qualcosa di così enorme, probabilmente non avrei saputo che cosa dire e sarei rimasto zitto, anzi, credo che il silenzio, in un caso di questo genere, può anche rappresentare una forma di reazione maggiore che non dirgli, che va là, ma che stai dicendo? Ben altre cose sono quelle che stanno succedendo in Sicilia. Certo è che, avuta questa notizia, si è scatenato tutto, in particolare il Partito Democratico, di cui formalmente fa parte Crocetta, tutti hanno detto, è ora di finirla con Crocetta, Crocetta se ne deve andare, ha superato il limite, cioè tutti hanno interpretato questo episodio come il dato finale di una vicenda, di un personaggio che è in se stesso già squalificato e certamente politicamente squalificato, è la Sicilia che è una regione ricca, che gode di uno statuto che gli dà un particolare privilegio dal punto di vista finanziario, con un buco del bilancio spaventoso, con lo sconquasso di tutta l'amministrazione e con rapporti politici all'interno della maggioranza che sostiene Crocetta, il quale è il Presidente della Regione eletto con il minor numero di voti perché per una situazione particolare, perché la gente non è andata a votare, perché c'è stato un frazionamento delle altre forze politiche e è stato eletto con almeno del 15% dei voti. E il Partito Democratico si è sfogato, pochi giorni prima avevano fatto un comunicato con cui vantavano di aver messo il guinsaglio esplicitamente a Crocetta, di aver posto fine a questa situazione anomala di un Crocetta che si muoveva a ruota libera, viene questo episodio e si scatenano tutti, compreso il Presidente della Repubblica, il quale fa un comunicato in cui esprime di avere la sua solidarietà a Rita Borsallino. Uno non si esprime solidarietà per una voce circa un'offesa recata alla persona, si esprime perché si riconosce la verità di questo fatto. è durato lo spazio del mattino, perché poi alla fine ci sono accorti che grazie alla incongruenza dello statuto della regione siciliana, come del resto della legge comunale e provinciale relativa ai comuni e alle regioni del resto d'Italia, e se il sindaco, il Presidente della regione muore o viene arrestato o si dimette, vanno a casa tutto il Consiglio. Dato che il Consiglio a casa non ci vuole andare, anche l'opposizione si raccomanda e cerca sempre di far mancare un voto all'evoluzione di sfiducia, questo è un giochetto che sta avvenendo in Sicilia, di cui la gente farebbe bene a informarsi, per salvarlo in estremis, perché se no paga il giusto per il peccatore, come si dice, e i giusti, ammesso che siano tali, non vogliono pagare lo scotto di queste direzioni politiche. E allora è avvenuto un fatto molto particolare, teniamo presente che in Sicilia gli ultimi due governatori, come si dice, con l'imitazione del linguaggio degli Stati americani e degli Stati Uniti, che hanno proceduto a crocetta, hanno finito il loro mandato perché sono stati mandati a casa o in carcere da una magistratura. Il partito dei magistrati in Sicilia è particolarmente forte, anche se è diviso perché c'è una scheggia impazzita degli ultrad, di palermitani, eccetera, eccetera, gli antimafia deluzionali, quelli del, quello strano, incredibile e folle processo per la trattativa Stato-mafia e compagnia bella. Il partito dei magistrati è quello di cui bisogna essere amici, se no non si vincono le lezioni in Sicilia. E che è quello che in questa situazione in cui il Parlamento siciliano non può votare la sfiducia nei confronti del Presidente, perché se no compie un atto autorezionistico, perché chi vota contro il Presidente vota per andarsene a casa, per mandare a casa Presidente e Consiglio regionale, Parlamento siciliano, sono magistrati e hanno mandato a casa, cioè in carcere, il Presidente Uffaro, hanno mandato a casa per ora, auguriamoci che non lo mandano in carcere, il Presidente che lo ha succeduto, e adesso invece sono andati al salvataggio di Crocetta. Quando si sono accorti, c'è stato poco dopo l'esplosione della notizia di questo colloquio telefonico, che torno a dire non è poi così in sé scandaloso. Però Mauro, colloquio telefonico è un'intercettazione telefonica, è l'intercettazione di un colloquio che facciamo conto, se dobbiamo fare un paragone direi, è un tizio che parlando con un cardinale bestemmia, è il cardinale sassisto, la procura fa un primo comunicato e gli dice agli atti non c'è la trascrizione di questa telefonata. Abbiamo domandato anche ai carabinieri cosa stanno, la procura che domanda ai carabinieri, che per caso ce l'avete voi, vi siete dimenticati di mandare. L'idea è enorme, cioè l'altra parte si spiega, qui tutti intercettano tutti, e a un certo punto dovrebbe essere solo la procura a farlo, se scoppia una grana di questo genere è il procuratore, e poi vediamo chi è il procuratore. Domanda in giro, ma per caso ce l'avete voi, l'intercettazione che non ce l'avete mandata. Tra un primo domenico, agli atti del processo non c'è l'intercettazione. Io immediatamente, che avevo fatto un articolo per giustizia giusta, per il mio foglio personale, internet, e ho detto subito, ma questa è la missione di una situazione abnorme e scandalosa, cioè che la procura deve informarsi per sapere se qualcuno si trattenga l'intercettazione. e non smentisce nulla, perché dice agli atti non c'è, chissà, era certamente insufficiente, ma nel frattempo, che era successo? Che tutti si erano accorti che con le dichiarazioni fatte, tutti, dal Presidente della Repubblica ai consiglieri regionali, ai deputati regionali, scandalizzati nei confronti del Presidente, è ora che si è andato a casa, ma se si è andato a casa non andiamo a casa tutti, Presidente della Repubblica no, e gli altri, anzi andiamo a casa. Se si fanno le elezioni, in queste condizioni, l'elettorato sigiliano è particolarmente mobile, insensibile a certe cose, emotivo, diciamo così. Il Partito Democratico prende il 3%, e costa i ripari. Abbiamo visto i titoli dei giornali, il Partito Democratico fa quadrato intorno, bel quadrato, dopo avermi detto di tutti i colori, è ora che te ne dai, questo hai superato il limite, ecco a che punto siamo arrivati, si dice, no, non è vero, perché la Procura della Repubblica ha smantito. La Procura della Repubblica non aveva smantito, perché non era una smantita. Dire agli atti non c'è, non significa dire nessuno l'ha fatto con insensizzazione. a questo punto la Procura, ha ritenuto bene il Procuratore della Repubblica, lo vuoi, ha fatto una seconda dichiarazione in cui ha riflettuto le cose dette prima e ha detto, e comunque questa intercettazione non c'è, che non è l'affermazione piena, ma insomma molto di più. ma a questo punto c'è qualche cosa che nessuno ha detto. Chi è Lo vuoi? Lo vuoi è il Procuratore della Repubblica, persona di cui tutti mi dicono, una persona prudente, misurata, e come tale è odiata da molti magistrati oltransisti. L'ala oltransista della Procura della Repubblica di Palermo era contro Lo vuoi, non lo voleva, e c'erano altri, Lo forte, e lei mi pare, i quali hanno ricorso al TAR contro la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura che nominava Lo vuoi, Procuratore a Palermo. Il TAR del Lazio, il 5 maggio, aveva sospeso la nomina. Lo vuoi, ha ricorso al Consiglio di Stato, la sospensione è stata annullata, il TAR adesso dovrà decidere nel merito il ricorso di questi altri magistrati. Questo che significa? Significa che il Procuratore della Repubblica di Palermo è sospeso a un filo nelle condizioni alle quali non si gradiscono incidenti come quello di dover mandare a casa un Presidente della Legione che non si capisce bene se è partito del Presidente del Consiglio dei Ministri e lo voglia mandare a casa o non lo voglia mandare a casa. Sì, lo voglia mandare a casa poi sono accorti che non era opportuno. E quindi la seconda dichiarazione per carità non voglio dire che sia stata fatta in malafede ma io direi che la prudenza che è una virtù per un magistrato in certe condizioni viene ad essere aiutata a essere ancora maggiore. Qual è la conclusione? la conclusione è che l'antimafia in nome della quale prima si è gridato che bisognava a mandare a casa tutti tutti gli avversari di Crocetta erano tutti mafiosi e l'antimafia invocata dai confindustriali siciliani la Sicindustria tutti personaggi che hanno raspolato e grattato la greppia della regione con un presidente della Sicindustria che si è autosuspeso pure lui come è Crocetta perché tra l'altro ecco forse è da dire Crocetta dice che ha fatto quando si è messo a piangere non ha insomma se fosse stata una bufala questa storia la notizia ma voi siete matti magari io faccio conversazioni di questo genere con un tusino o con chiunque altro no è scoppiata la pioggia mi vogliono ammazzare ecco qua grandi pianti poi ha detto adesso il silenzio che farò poi a questo punto una volta che la procura della repubblica gli ha dato la mano ha detto adesso farò adesso non ha più silenzio è un'antimafia definitivamente sputtanata diciamolo francamente Rosa Borsellino che deve essere una brava ragazza come il padre che era un bravo uomo anche se non credo che avessi tutti i meriti e le qualità per andare a fare l'assessore aveva parlato di abuso dell'antimafia si era cominciato a parlare di abuso dell'antimafia un personaggio invece come lo zio il fratello del povero Borsellino grottesco quello con l'agenda rossa e che ha detto come fanno l'agenda rossa quelli della sua con greca l'agenda rossa sarebbe una specie di guardia del corpo dice noi agenda rossa quando ci sono i politici che noi ci rivoltiamo le spalle il sedere naturalmente alziamo per armi all'agenda rossa questa agenda rossa che ha un significato simbolico simbolico perché sarebbe che Borsellino avesse una certa agenda rossa dopo l'esplosione non si è trovata insomma che dice chissà quali misteri che erano questa è la situazione credo che sia arrivato il momento in cui bisogna fare una revisione di questo concetto e se io nel 1991 quando scrivevo con uno scoletto gli sciagalli dell'antimafia ero solo e qualcuno mi diceva stai attento perché chissà che ti succede però non mi è successo niente fino adesso è un po' tardi probabilmente ma adesso sono in tanti c'è ancora dei fenomeni molto singolari c'è quel libro fatto da uno dei più grossi penalisti italiani attuali Fiamdaca che contesta la storia del processo per la trattativa stata mafia che è una bagianata assurda folle no processo perché hanno tentato di subire il ricatto della mafia ora tentare di subire un ricatto diventa un reato e beh insomma i rappresentanti dello Stato cioè quello che il governo messo tutto processo conso perché perché voleva ridurre il numero di quelli c'era un'antimafia come inista che si ritiene al di sopra della legge dello Stato del governo e degli altri poteri dello Stato credo che sia arrivato il momento per dirlo chiaramente e per dimostrare quale situazione giuridicamente socialmente politicamente e moralmente indecente abbia portato questa cosiddetta antimafia devozionale come la chiama Guido Vitiello senti un accenno alla questione delle intercettazioni vogliamo un pochino specificare perché anche c'è sullo sfondo anche questa diciamo polemica sulle intercettazioni che scompaiono che devono essere distrutte come al solito i giornalisti che speculano chi è che è tenuto al segreto lo vogliamo dire guardate il fatto è questo come al solito c'è sempre chi dice che le cose peggiori dovrebbero essere utilizzate bene e c'è chi dice che lo scandalo in questo caso è quello di intercettazioni fatte che non riguardavano e che devono essere distrutte le intercettazioni si ma se ne fa un cattivo uso questa è un'assurdità le intercettazioni in Italia si fanno più intercettazioni in Italia dieci volte quello che si fanno in paesi più grandi dell'Italia e si fanno molto spesso come si dice a Roma a spiove cioè in massa c'è di più se si fanno delle intercettazioni per un omicidio c'è un dato di fatto che si cerca di individuare elementi di verità o di non verità in ordine a una condotta precisa che è quella con cui qualcuno ammazza una persona create tipi di reati strani come l'associazione di stampo mafioso andate a leggere l'articolo 416 la sostanza è l'associazione di stampo mafioso quando quelli che ne fanno parte sono mafiosi e si comportano da mafiosi questo è un dio di parole non parliamo del concorso esterno come si fa a fare il concorso esterno ad un reato assonativo non l'abbiamo mai capito e d'altra parte oggi ci dà per scontato che questo reato lo ha creato la giurisprudenza e che significa che sta violata la Costituzione sentenza contrata la Corte Europea ha detto che ha fatto una bagianata perché doveva prendere atto che c'era una violazione perché era stato condannato per un reato che non esisteva però ha detto no un reato esisteva però la giurisprudenza l'aveva creato male perché non aveva tenuto conto dei fatti di prima quelli di dopo le bagianate non le fanno soltanto i magistrati italiani le fanno anche quelli europei ed allora questo tipo di reati quali sono le cose rilevanti e quelle rilevanti se noi parliamo al telefono e parliamo in termini allusivi i mafiosi parlano allusivamente quindi il linguaggio allusivo è una prova di un reato insomma si arriva a questo e non c'è è difficilissimo e chi è che dovrebbe bisogna distruggerle subito chi distrugge il brigadiere addetto alle bobine il carabiniere questo questo non c'entra niente questi parlano di andare a donne insieme non c'entra il pubblico ministero le estime e dice quello magistrato è già infatti ci sono purtroppo ci sono delle inserzionazioni che scompaiono non sono rilevanti agli effetti investigativi ai fini investigativi e che significa che non servono alla fine dell'accusa ma le intercettazioni se si fanno devono rimanere tutte perché anche se parlano di sport alla Juventus alla Lazio alla Roma e compagnia bella dimostrano che non è vero che i rapporti fra quelle due persone non sono i rapporti fra mafiosi sono i rapporti certo può darsi che poi c'è un altro telefono su cui dicono altre cose ma quella è la prova che quelle intercettazioni fatte di quelle telefonate lì alla ricerca di espressioni di cose dette rilevanti non sono rilevanti se non sono rilevanti dovete lasciare la prova che le intercettazioni provavano che i discorsi erano discorsi non incriminanti discorsi di persone normali discorsi normali ecco quindi che qui arriviamo sempre alla grande complessità e arriviamo a quell'altro dato questa antimafia che ha massacrato il diritto italiano che ha creato dei tipi di reato ha creato un tipo di repressione fondato sul sospetto e quando si dice lo dice la legge sulle misure di prevenzione e sulla confisca dei beni in Italia si possono confiscare i beni nei confronti delle persone indiziate di essere mafiose cioè l'inversione dell'onere della prova non sono l'inversione dell'onere della prova ma chiaro riferimento a una situazione in cui il sospetto è imputato di essere sospettato indiziato mi ricordo una volta andai a Milano per una trasmissione alla RAI ero deputato e c'era l'allora comandante della guardia di finanza che è poi stato senatore e mi chiedono di senta firma qua che cosa devo firmare questa è la dichiarazione antimafia e che devo e io sapevo benissimo nel cos'è e devo dichiarare di non essere nelle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione e che ne so io io non lo firmo ma guardi non gli possiamo rimportare non mi importa niente ma io non firmerò mai la dichiarazione di non essere nelle condizioni che ne so io se c'è un imbecille il quale mi mi considera indiziato è indiziato io so sì e no posso sapere se sono mafioso o no forse è disponibile pure quello ma di essere indiziato indiziato è una cosa che c'è c'è deve essere qualcuno che recepisce l'indizio come indizio certe determinatità e andai da questo generale adesso non mi ricordo cosa si chiama dico generale ma lei ha firmato mi hanno fatto firmare cosa che ha firmato perché che ho firmato lei ha firmato la dichiarazione antimastica perché non la devo firmare no come sarebbe che sono mafioso no ma lei è sicuro di non essere indiziato a Palermo di essere mafioso rimase era una persona poi me lo spiega poi me lo spiega poi me lo spiega rimase molto sconciata insomma quella è una battuta era una cosa ma questa è l'antimafia e si rivela in queste cose e come facciamo a sapere se è rilevante per stabilire se io sono indiziabile di essere mafioso chi lo stabilisce poi quel discorso tra l'altro non si dimentica un struttino è imputato non di mafia ma insomma di truffe di cose un pochino più concrete addirittura dalla mafia e concorso esterno interno che poteva essere provato o che poteva provare che quella conversazione che trattavano di altro non si scandalizzava no non si scandalizzava però non trattavano di cose indizianze come dicono le persone non era rilevante agli affetti e se non era rilevante era una prova della non colpevolezza di crocetta ma per un'ipotesi era di reato che gli fosse il concorso con Tutino che gli fosse attribuito ecco vedete oramai siamo arrivati attraverso molti anni oramai che è durato questo fenomeno di sfacelo dal nostro sistema giuridico a perdere addirittura la sensibilità di fronte a certi casi abbiamo inteso in questo caso delle invocazioni contrastanti abbiamo inteso la vicenda delle intercettazioni abbiamo inteso il procuratore della Repubblica che che non sa se qualcuno ce l'abbia l'intercettazione sentiamo sentiamo che adesso si è accorta che se ne abusa e pretende di risolvere la questione e non già limitando l'uso in un contesto quantitativo non dico più accettabile ma più razionale perché essi fanno esercitazioni addirittura esplorative cosiddette esplorative questo a rete qua a rete mi è stato dichiarato da una persona che ne sapeva certamente più di me forse più di voi che si fanno intercettazioni che si facevano questo è stato detto alcuni anni fa prendendo le pagine dell'elenco telefonico e intercettando tutto quello che risulta beh insomma adesso non si può più fare perché ci sono i telefonini ma si intercettano altre cose le pagine dell'elenco telefonico sono poco indicative comunque intercettazioni a campione cosiddette beh insomma in un paese civile tutto questo non deve avvenire bene allora con questa frase di chiusura che ovviamente sembra un epitaffio per la giustizia italiana ma speriamo ovviamente che poi risurga prima del terzo giorno e vediamo un po' di commentare ci diamo appuntamento per commentare un po' anche dopo gli effetti quando si spegneranno i clamori e vedremo un pochino Crocetta che fine farà per il frattempo ringraziamo Mauro Mellini no scusa Crocetta oramai è destinato a fare il bamboccio tenuto su quella poltrona allo scopo di non andare a casa gli altri che ce l'hanno sulle scatole no i quali gli hanno dichiarato che questo poltrono non ce l'hanno di ritorno gli metteranno un abbadante cosa che usa nella politica italiana abbiamo un ministro della giustizia che si chiama Orlando ma che non va confuso né con Vittorio Emanuele Orlando né con nemmeno con l'evolucro Orlando Cascio e qua tra l'altro aveva dichiarato pochi giorni fa che la giustizia è in stato di calamità istituzionale tanto per dire di conseguenza credo che non ci resta che prendere atto di una situazione particolarmente grave che diventerà ancora più grave quando il partito democratico deciderà di tenere a suo posto legato alla poltrona crocetta ormai screditato e non più restaurabile perché le restaurazioni anche del chirurgo plastico non non varrebbero un po' perché sta dentro un po' perché sono d'altro genere queste qui e che servirà lì a stare lì soltanto per impedire che si facciano le elezioni in Sicilia in questo momento in cui il partito democratico prenderebbe una batosta di quelle colossali e allora e tutti gli altri comunque gli attuali deputati dei giornali dovrebbero andarsene a casa e non ce lo vogliono andare e sotterranno lì quando si amministra in questo modo un paese tenendo una persona lì tanto perché per evitare che ci vada qualcun altro o comunque il popolo sia chiamato a votare beh il peggio di così non potrebbe capitare grazie 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 grazie